Cari amici bentrovati, non possiamo fare a meno quest'oggi di entrare nella grotta di Lourdes, ma ci entriamo facendo nostro il messaggio dell'ottava e della nona apparizione. Era il 24 febbraio del 1858 e la signora di Massabiel per l'ottava volta si presenta a Bernadette. E questa volta con un messaggio forte. Penitenza, 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 pregate Dio per i peccatori, baciate la terra in espiazione dei peccatori. Gesto che Bernadette compì in obbedienza assoluta, anche se questo evidentemente ha suscitato lo sconcerto e il disprezzo dei presenti. La stessa cosa avviene il 25 febbraio, il giorno dopo nona apparizione. Ci sono circa 300 persone alla grotta e oltre a ripetere il gesto di baciare la terra, su richiesta specifica della signora, Bernadette scava con le mani nel terreno melmoso e trova non subito, non immediatamente, una sorgente d'acqua. Bernadette riferisce Lei mi ha detto di andare a bere alla fonte. Prima va verso il Gav, la Madonna la richiama indietro, gli indica il luogo dove deve scavare e dice trovai un po' di acqua fangosa, quindi deve buttare via, deve ripulire. Alla quarta volta potei bere. Ve la immaginate Bernadette in ginocchio che beve quell'acqua, forse non ancora del tutto pura, e che si lava il volto con quell'acqua davanti agli occhi sconcertati dei presenti. Lei mi ha fatto anche mangiare dell'erba che si trovava vicino alla sorgente. Quindi la visione scomparve e poi me ne andai. Dinanzi alla folla che le dice sai che ti credono pazza facendo cose simili? Bernadette risponde con la fermezza del suo carattere e con la semplicità del suo modo di porsi, oltre che con la sua intelligenza acuta. è per i peccatori. Ecco, ascoltiamo la pagina di Vangelo di questa domenica. Ascoltiamola perché ha qualcosa da suggerirci, sia continuando a farci sostare dentro la grotta, sia preparandoci al tempo quaresimale che fra qualche giorno andremo a incominciare. Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo venne da Gesù un lebroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva «Se vuoi, puoi purificarmi!» Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse «Lo voglio, sii purificato!» E subito la lebra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse «Guarda di non dire niente a nessuno! Vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro!» Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano da lui da ogni parte. Ecco, cari amici, la grotta di Lourdes ancora oggi è il luogo dove il Signore continua a rivolgersi a noi come all'ebroso di cui abbiamo sentito nel Vangelo il quale invoca salvezza e Gesù si rivolge a noi e ci dice «lo voglio, lo voglio, sii purificato». Non possiamo neppure trascurare il fatto che fra qualche giorno entriamo nel cammino penitenziale della Quaresima. e allora dobbiamo fare delle parole di Gesù un richiamo decisivo «lo voglio, sii purificato». Vedete, Gesù non è determinato dalla logica esclusiva presente nel Libro del Levitico di cui leggiamo nella prima lettura di questa domenica perché Gesù va contro le normative in quanto è di fronte all'unica scelta necessaria e imprescindibile «lo voglio, sii purificato». Gesù compie un gesto che la legge ebraica proibiva in modo categorico. Arriva a toccare quel lebroso. Forse per questo Gesù lo allontana dando l'impressione di volersene liberare al più presto. Ecco, la Madonna appare nella grotta di Massabielle in quella che è un attuito cochon un riparo per maiali. Un luogo insignificante, povero ecco, questo ci fa capire una cosa importante. Quello che è significativo è che quell'uomo non riesce a liberarsi dal male se non con l'aiuto di Gesù. Quel Gesù che lo ha risanato nel corpo e nello spirito lo vede diventare suo testimone rompendo qualunque schema diplomatico e di riservatezza provocando qualche difficoltà evidentemente alla missione stessa di Gesù. Gesù si dice che non poteva più entrare pubblicamente in una città ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. mi fa pensare al popolo di Dio ma anche a quel popolo di non cristiani a volte di non credenti che è attratto dalla grotta di Massabiel che lì arriva lì giunge per cogliere in qualche modo un po' di serenità di pace di luce ecco il dono della salvezza è inevitabilmente contagioso e colui che ne è portatore si nasconde perché è già evidente la testimonianza su di lui. Ecco questa pagina di Vangelo ci chiede di entrare a far parte della vita di questo lebroso del suo isolamento della sua esclusione della sua fatica del suo essere allontanato da qualunque rapporto sociale Gesù lo riammette a una vita sociale va a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro il Signore liberandoci dal peccato invitandoci alla penitenza facendoci strumenti per la liberazione dei nostri fratelli e sorelle ci rende davvero capaci di vincere il male come lo ha vinto Lui ricordiamoci sempre che il Signore si rivolge a ciascuno di noi ci tocca e ci dice lo voglio sii purificato bene andremo a iniziare la quaresima allora vi propongo un esercizio se volete penitenziale leggete bene il Vangelo di Marco in questa quaresima e sottolineate tutte le volte che Gesù tocca fisicamente qualcuno scoprirete delle cose splendide perché perché davvero è la sua carne a salvarci per Bernadette alla grotta di Massabielle non è stato tanto importante vedere Acherò vedere quella che sta là vedere la signora della grotta di Massabielle lei lo scoprirà tra l'altro dopo la sedicesima apparizione che a manifestarsi alla grotta di Massabielle era la Vergine Maria però lei va alla grotta per un fatto molto semplice perché si sente avvolta custodita in un rapporto personale mi parlava come si parla una persona e noi a volte guardiamo la grotta nella sua staticità come se la Madonna fosse sempre stata là in alto non è così la Madonna scendeva passeggiavano insieme dentro la grotta si parlavano comunicavano come tra due amiche ecco rileggiamo bene il Vangelo andiamo a vedere come il Signore si fa accanto a noi e ci tocca ci tocca fisicamente ci tocca perché è vicino questo certamente ci aiuterà a vivere il cammino della Quaresima che abbiamo dinanzi e ad essere risanati da ogni male buon cammino buona domenica a tutti voi a tutti voi Grazie a tutti. Grazie a tutti.